Sono Rossana Malachin, sono un'imprenditrice, ho due aziende, una nel mondo della logistica e l'altro nel mondo della formazione finanziata. MBS è una grandissima opportunità per ricentrarsi, dare delle priorità alla propria vita e studiare, che è una cosa che mi è sempre piaciuta. Ho imparato a diventare più egoista nella mia formazione personale e essendo donna devi conciliare il mondo del lavoro al mondo dello studio. E questo, in questo caso, priorità massima è MBS. Mi ha riattivato l'entusiasmo nelle cose, senza ombre di dubbio. Dal punto di vista professionale mi ha migliorato e mi sta migliorando sui processi organizzativi, che sto migliorando costantemente e che mi permette di lavorare con più entusiasmo e più efficienza.